Il nostro test di oggi è sul 1680 f4 della Fuji, è un'ottica presentata da qualche mese, un'ottica che è un po' il tutto fare perché equivale sul formato full frame al 24-120. Certo l'apertura non è molto ampia un f4 però per l'indirizzo di quest'ottica che può essere un'ottica che può andare benissimo per il paesaggio, per il reportage, la fotografia di viaggio è ampiamente sufficiente. Un'ottica che ha dati di targa comunque molto validi, devo dire in anticipo che in rete non ho sentito pareri molto positivi e per questo anche grazie a Fuji che mi ha spedito l'ottica assieme all'XT4, ho fatto anche un test su questa nuova macchina, mi permetterà di analizzare se queste dicerie che si vedono sul web sono vere o meno. Adesso quindi andremo a fare le solite nostre prove, vi farò vedere da vicino come è costruita l'ottica, le sue caratteristiche, quindi andremo a analizzare i file, quello che è quindi la distorsione, la vignettatura, le aberrazioni cromatiche, la nitidezza, tutti i soliti nostri test. Alla fine poi vi dirò quelli che sono i miei pensieri, quindi le mie conclusioni sul Fusi 1680 F4. Vi elenco un po' quelle che sono le sue caratteristiche principali, 1680 appunto che equivale un 24-120 sul formato full frame, 9 lamelli di diaframma per dare un piacevole sfocato, 16 elementi in 12 gruppi, quindi una costruzione ottica direi abbastanza complessa, 35 mm come distanza minima di messa fuoco, è stabilizzato, è tropicalizzato, ha un motore autofocus molto silenzioso e molto rapido, estremamente rapido veramente, molto molto silenzioso quando ho copiato alle ultime modelli di casa Fuji, ha diametro filtri di 72 mm, misura soltanto 89 mm scusate per 78 mm di diametro, guardate lo confronto adesso con il mio iPhone 7, è nettamente più compatto, appunto l'apertura massima di F4 ha permesso Fuji di mantenere molto contenute le dimensioni e pesa 440 grammi. Come vi dicevo è tropicalizzato, difatti se andiamo a vedere la baionetta vediamo l'anellina in gomma che ne conferma la tropicalizzazione, presente in vari punti dell'ottica. La ghiera di diaframmi è veramente frizionata al giusto, è impossibile che voi inadvertitamente ci prendiate conto e andate a spostarla, ha anche i terzi di stop, così come la ghiera dello zoom anch'essa frizionata perfettamente. Come al solito, come mai avete visto tutte le mie prove, io estendo al massimo lo zoom, vado a scuotere la parte che fuoriesce per controllare la qualità costruttiva e non ha il minimo gioco, quindi conferma ancora della grande qualità, qui si vede si sente tanto metallo sotto le dita, poca plastica e tanto metallo. La ghiera di messa a fuoco diciamo è l'unico tra virgolette piccolo difetto perché è un po' troppo morbida, avrei preferito che fosse appena un po' più dura per controllare la messa a fuoco manuale con estrema precisione. Un'ottica comunque che conferma l'eccellente standard di Fuji, compatta, costruita benissimo in tutte le sue parti. Andiamo adesso a vedere quali sono le sue prestazioni sul campo. Analizziamo adesso gli scatti che ho eseguito col Fuji C180 F4. Sto utilizzando in questo momento Capture One per questa prima parte del test perché come vi ho già spiegato altre volte Capture One mi permette di annullare le correzioni automatiche che Fuji va a implementare sulle proprie ottiche quando il file rough viene letto dai software di conversione. Cominciamo a vedere quello che è la distorsione. Qui è una foto fatta a 16 mm dove la distorsione a barilotto è evidente vedete qui c'è una grande distorsione a barilotto si può correggere dopo si può correggere in macchina oppure col software come sto facendo io adesso però indubbiamente la distorsione a barilotto a 16 mm è presente. Andiamo a 35 dove da barilotto si passa cuscinetto vedete queste linee che sono convergenti anche qua vedete vado su 47,50 si corregge comunque cuscinetto è presente così come 80 mm quindi abbiamo presenza di distorsione ma ci sta perché con questo tipo di ottiche che devono mantenere comunque dei prezzi concorrenziali la correzione di certi difetti ottici vale a dire principalmente distorsione e vignettatura e anche aberrazioni quando presenti vengono demandate al software della macchina oppure il software di post produzione anche perché correggerli otticamente sapete bene che costa tanto a livello di progettazione di lenti utilizzate e anche di volumetria stessa dell'ottica. Fatta questa piccola disgressione andiamo a vedere adesso gli altri difetti andiamo a vedere la vignettatura anche qua ho tolto la correzione automatica cominciamo a vedere lo scatto fatto a 16 mm a tutta apertura rispetto allo scatto sempre a 16 chiuso di uno stop vedete che a tutta apertura c'è un po' di vignettatura ma direi molto molto lieve basta poco per andarla a correggere questo questo qui in confronto fra tutta apertura a 16 mm chiuso di uno stop vedete che basta in effetti poco comunque vignettatura c'è ma non invasiva andiamo a 35 mm a tutta apertura a f4 anche qua è presente la vignettatura anche se in maniera inferiore rispetto a 16 ma ci sta anche è più facile che ci sia vignettatura quando l'obiettivo utilizzato uno zoom in posizione grandangolare è un po' presente ma poca roba in effetti gli effetti chiudendo di uno stop poi quella poca che c'è va a sparire adesso guardiamo a 80 mm andiamo a togliere la correzione la vignettatura quanto è presente qui siamo 80 mm tutta apertura f4 diciamo che è paragonabile più o meno forse un pelo di rispetto al 35 quando è posizionato a 35 mm lo zoom è un po' presente ma poca roba quindi a parte una leggera presenza a 16 mm di vignettatura per tutte le altre focali del comportamento è ottimo volendo anche a 16 chiudendo di uno stop si va a correggere completamente andiamo adesso a vedere quelle che sono le aberrazioni anche qua ho fatto scatti a 16 35 e 80 cominciamo a vedere a 16 mm andiamo ingrandire ingrandiamo bene per vederle eccola qua qui non ho abilitato la correzione della delle aberrazioni adesso la vado ad implementare vedete che quella quella sfrangiatura di colore vedete qua dove sto passando la manina al mouse questa sfrangiatura magenta viene corretta quindi è presente un po' di aberrazione ma tenendo conto della focale in gioco e dell'entità è un ottimo comportamento andiamo a vedere a 35 mm guardate la cresta di questa foglia qui non c'è nessuna correzione dell'aberrazione la vado a correggere se vedete qui quando la tolgo la correzione si vedere si vede appena appena un po' di sfumatura magenta che viene fuori la vado a correggere sparisce andiamo a vedere adesso la focale di 80 mm guardate sempre il bordo di questa foglia qui non c'è nessuna correzione vado a correggere vedete no questo bordino che viene fuori quindi l'aberrazione e quando la messa a fuoco in base a certi colori non viene sullo stesso piano appunto perché l'ottica non è corretta perfettamente a livello di aberrazione però è pochissimo e comunque vedete che correggendola va a sparire completamente andiamo adesso a vedere quello che è il flare poi passiamo su lightroom ho fatto degli scatti a 16 35 e 80 senza paraluce ovviamente e cercando di mettere in difficoltà la lente quello che mi interessa di non vedere troppi riflessi interni e il contrasto che rimanga sempre abbastanza elevato e a 16 minuti avete tutta apertura devo dire che il contrasto comunque sempre buono guardate dove è il sole e non vedo quasi l'assenza totale di riflessi interni cosa che invece vengono fuori con l'effetto stella che può essere piacevole chiudendo a f22 e con vari riflessi interni ma diciamo che la tenuta a livello di contrasto rimane andiamo a vedere a 35 forse soffre appena un po più di flare ma forse dovuta all'ingrandimento il contrasto è sempre buono chiudendo a f22 si accenta ancora di più diciamo questi riflessi interni sulla lente ma succede praticamente sempre con quasi tutte le ottiche andiamo a vedere a 80 mm 80 mm e qui in effetti la sofferenza è un po alto a livello di flare e vedete anche chiudendo a f22 le cose peggiorano però dico mettete il paraluce state attenti a non fare entrare la luce in macchina a meno che vogliate degli effetti particolari e diciamo che non è un grandissimo difetto di quest'ottica adesso passiamo su lightroom per vedere gli altri gli altri test allora cominciamo a vedere l'ho sfocato lascio un'attività in ultimo che una delle cose che interessa di più la facciamo come finale ho fatto diversi scatti a diverse focali con diverse aperture chiaro che un 16 80 f4 non si può definire l'obiettivo da ritratto con quegli sfocati quei buche che vanno tanto di moda borrole quello che mi interessava vedere che comunque lo sfocato anche se non era molto importante non fosse troppo duro qui è 80 mm f4 5 6 8 vedete quanto lo sfondo diventa sempre più invasivo a f4 comunque lo sfocato non è pittorico non è un 1.2 1.4 però ho usato 80 mm se poi avete l'accortezza di mantenere lo sfondo ad una certa distanza potete fare dei bei ritrati chiaramente abbassandomi di focale passando a 35 4 5 6 8 o a 16 lo sfocato diventa sempre meno importante però quello che mi interessava vedere che non ci fossero difetti tali per cui lo sfocato anche se non importante non fosse troppo duro o troppo secco e questo comunque devo dire che la progettazione ottica ha mantenuto uno sfocato decente. Andiamo adesso a vedere quello che è la stabilizzazione la stabilizzazione l'ho provata su due macchine sull'X-T4 e sull'X-Pro3. L'X-T4 è già stabilizzata di per sé ho fatto diversi scatti partendo dal tempo di sicurezza poi allungando di 1 2 3 4 5 e 6 stop e sino a 6 stop con all'X-T4 il comportamento è eccellente di primo ordine guardiamo con l'X-Pro3 che non è stabilizzata anche qui ho fatto uno scatto con tempo di sicurezza e poi man mano allungato il tempo di 1 2 3 4 5 stop 4 stop 3 4 stop tengono bene e anche 5 stop quindi un grande grande comportamento del 1680 a livello di stabilizzazione anche con l'X-Pro3 vi potete permettere di avere 5 stop di guadagno a mano libera. Andiamo sull'ultima parte del test che so che interessa comunque sempre a tantissimi è la prova della nitidezza qui ho fatto diversi scatti partendo dalla massima apertura f4 fino ad arrivare a f22 a diverse focali a 80 a 35 a 16 cominciamo a vedere a 80 mm 80 mm a tutta apertura f4 ingrandiamo un po' per vedere il comportamento e direi che è ottimo vedete già il centro è molto croccante molto nitido praticamente potrei dire quali su tutto il fotogramma vediamo chiudendo di uno stop si guadagna qualcosa a livello di nitidezza ai bordi il centro è sempre ottimo e facciamo un confronto volante 4 e 5 6 il centro guadagna appena appena comunque ottima apertura è chiaro che chiudendo di uno stop i bordi ne guadagnano sicuramente guardiamo diamo un'occhiata adesso quando compare facciamo f16 il fenomeno della diffrazione a sinistra 5 6 dove già lavora benissimo l'ottica a destra f16 direi che comincia a perdere un po' in diffrazione quindi state attenti non chiudere troppo anche i bordi vedete si perde un po' di dettaglio quindi il limite diciamo che è un f16 come capita praticamente sempre passiamo alla focale di 35 a 35 mm questo è 35 a tutta apertura andiamo ingrandire nitidissimo al centro vedete bordi praticamente allo stesso livello facciamo un confronto veloce chiudendo di uno stop andiamo a confrontare allora qui a sinistra tutta apertura a destra 5 6 diventa ancora più croccante e i bordi appena un po' più nitidi comunque veramente a 35 mm l'ottica si comporta perfettamente facciamo un confronto per quello che riguarda la diffrazione che sarà più o meno la stessa cosa andiamo a ingrandire allora a sinistra 5 6 dove l'obiettivo lavora già benissimo a destra f16 guardiamo se si perde qualcosa a livello di nitidezza al centro vedete il centro comincia a impostarsi un po' a causa della diffrazione e così sicuramente come i bordi quindi anche qui siamo a f16 comincia a comparire la diffrazione adesso facciamo l'ultima parte andiamo a vedere a 16 mm a 16 mm tutta apertura andiamo a fare l'ingrandimento 1 a 2 nitidezza al centro è la migliore a mio parere in assoluto ancora più croccante più nitido grandissima prestazione chiaramente a 16 mm si perderà qualcosa ai bordini facciamo un confronto molto veloce fra 4 e 5 6 facciamo ingrandire al centro praticamente la stessa nitidezza chiaramente eccellente e i bordi ovviamente guadagnano qualcosa facciamo 5 6 8 guardiamo se guadagniamo ancora qualcosa per i paesaggisti il centro nitidezza veramente meravigliosa così come quasi tutto il campo e i bordi guadagniamo ancora qualcosa quindi 8 11 per i paesaggisti sono diaframmi ideali direi allora che il comportamento del nostro fuji 1680 f4 a livello di prestazioni ottiche è molto 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 buono ho testato anche l'autopocus nel nostro 1680 a tutta apertura con una buona luminosità ambiente ha dimostrato quello che vi dicevo di avere degli ottimi motori quindi l'autopocus è molto rapido molto veloce in AF singolo che ho utilizzato l'XT4 vedete quanto è rapido nell'aggancio dei due soggetti poi abbassato la luminosità e nonostante questo grazie anche comunque alla sensibilità dell'XT4 che vi ricorda il simile all'Xpro 3 il sistema autofocus del 1680 si è dimostrato ancora efficace molto rapido e molto sicuro ho quindi analizzato le prestazioni di questo fuji 1680 f4 allora cominciamo subito nel dire che io non concordo su quello che ho letto sul web almeno non tutti però c'è stata qualche lamentela a livello di prestazioni come nitidezza o aberrazioni eccetera io devo dire che comunque avete visto insieme ai file è vero senza la correzione impostata in macchina è un'ottica che soffre un po' di distorsioni di vignettatura ma abbiamo già visto avete già capito che per correggere otticamente questi difetti i prezzi salgono tanto si demanda la correzione solitamente di distorsioni e vignettatura al software, alla macchina se vi impostate la correzione oppure al software comunque non sono trascendentali come difetti sono difetti che sono equiparabili a altre ottiche dello stesso tipo per quello che riguarda l'incidenza invece per me le prestazioni sono eccellenti così come l'autofocus che è veramente rapido silenzioso e affidabilissimo e anche la costruzione dell'ottica segue il trend diciamo quello che la famiglia Fuji che ha sempre qualità meccaniche eccellenti un'ottica quindi che vi consiglio sì certamente un'ottica che vedo adattissima per la fotografia di paesaggio oltretutto perché è tropicalizzata poi essendo stabilizzata su una macchina come l'XT3 o anche l'XT2 l'X Pro 3 dà un bel vantaggio perché la sua stabilizzazione vi ho fatto vedere è comunque molto efficace un'ottica quindi adattissima anche al reportage, alla fotografia di viaggio, alla foto della famiglia perché comunque per dire accoppiata a un'XT4 o un'XT3 è molto efficace anche come autofocus molto silenzioso e molto veloce quindi il mio giudizio è sicuramente estremamente positivo se vi è piaciuto questo articolo mettete un like ricordate di fare la sottoscrizione spuntate la campanellina come sempre e vi ricordo i nostri corsi online dallo scatto alla stampa fine art e bianco e nero fine art perché comunque vi ripeto alla fine bisogna sempre stampare le nostre fotografie e ci vediamo al prossimo articolo e ci vediamo al prossimo articolo Grazie Grazie